Il Signore sia con voi e con il tuo spirito dal Vangelo secondo Giovanni. Glorie a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Quando verrà il paraclito che io manderò dal Padre, lo spirito della verità che procede dal Padre, Egli darà testimonianza di me e anche voi date testimonianza perché siede con me fin dal vicino. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà avuto e vi annuncerà le cose future. Egli vi glorificerà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Allora, l'ensite, lo diciamo sempre, all'abbondanza, come lui, bravo. Oh, come mai è sceso lo Spirito Santo? Vediamo un po' che cosa fa lo Spirito Santo che scende sugli apostoli. Che succede? Qual è il compito dello Spirito Santo? Numero uno, prima o poi, lo Spirito Santo è sceso soltanto sugli apostoli, oppure scende anche su qualun'altro, secondo voi? Anche su qualun'altro? Anche su chi scende? Maria. Su Maria. Poi? Qualcuno conosce lo Spirito Santo qua, vai, che non è presente? Nessuno conosce lo Spirito Santo su chi è un po' qua? Lo Spirito Santo scende nel cuore di tutti, di cristiani, ma no? Sì. Giusto? C'è un sacramento, che è proprio il sacramento in cui lo Spirito Santo discende proprio come nel giorno di Pentecoste. Non succedono le stesse cose, non scende il fuoco, eh, non si vede il fuoco. Il fuoco c'è al centro del cuore, ci infiamma l'amore di Dio. Come si chiama il sacramento con cui si dice lo Spirito Santo? Sì. O è tu, ha giustato proprio lo scioglio. La crisi, che diceverete, che è il sacramento che completa la vostra iniziazione cristiana. Quindi dal battesimo, poi c'è la rividenza, poi c'è la cristiana e poi c'è la crisima. Allora, dalla crisima in poi, voi che farete con gli altri ragazzi che intorno alla crisima sparite? Fate le sparizioni, voi sapete che dal cielo ogni tanto fanno le apparizioni, qualcuno vede Gesù, la Madonna e i vicini ragazzi, voi sapete che fanno? Fanno le sparizioni, non scendete. Arriva la crisima, arriva lo Spirito Santo e il giorno dopo, spariscono. Ci riempio. Voi lo farete così? Alzate un po' la mano. Aspettate la giornata della crisima di fare una sparizione. Vedo, vai, che faccia la rividenza? Voi, qualcuno resta a fare un pensierino, non mi preoccupare. Tu fai così? Ci stai a pensare? Pensala. Meglio di no. Un po'. Chi fa così? Meglio di no. Perché, come lo guardo di noi grandi, ci sono due modi di vivere la vita. Due soli, eh. Sapete quali sono questi domani grandi? Uno vicino a Dio. E uno lontano da Dio. Secondo voi, come si chiama meglio? E poi siamo sicuri. Questa è una domanda retorica. Siamo sicuri, punto interrogativo che si chiama. Tutto si trova sicuro, eh. Adesso lo vedremo con la seconda lettura. Che adesso lo continuerò un pochino con i grandi. Perché ci sono proprio due modi. Secondo voi, oggi, quello che vi vedete intorno, i vostri amici, la gente, è vicina o lontana da Dio? Che vi sembra? A occhio. Tu dici un po' lontano. Alcuni sì, alcuni. Alcuni sì, alcuni. La maggioranza, secondo voi, è vicina o lontana da Dio? Pugno. La maggioranza dicono che è lontana. Sì. Tu pensi che è vicino? Come si fa a capire se una persona è vicina o lontana da Dio? Vediamo un po'. Sì, è bravo. Sì, è bravo. San Paolo ci darà delle buone rette sul foglio. E tu, dopo, le leggiamo insieme. Facciamo un po' di esempi concreti. Sono persone senza anche di parolacce. Secondo voi, Gesù era una donna. Mi dicevano le parolacce? No. E Gesù era una donna. E Gesù era una donna da Dio? Lontana. Quindi, anche se non sono, se è l'idevoto, mi raccomando, non giudichiamo mai le persone. Questo va anche per i grandi. Il fatto, però, d'accordo, è una spia che, cioè, è possibile che lo Spirito Santo che scende nei nostri cuori ci ispiri a dire una parolaccia. E' possibile. E' una cosa che viene da Dio. Voi siete contenti quando vi devono una parolaccia brutta. Mica, saremo contenti. Quindi non è una cosa bella, no? Ok? Allora, se una persona avvicina al buon noto a Dio, lo capiamo da alcuni segni che sono percepibili. Adesso lo vedremo con gli altri. La seconda lettura. Ultima cosa. Facciamo attenzione ai segni della ventecosta. Lo Spirito Santo, quando diceva che succede, si sente un rompo, una specie di tuono. Poi un vento che si abbatte cagliando e poi delle lingue di fuoco. E poi gli apostoli escono, predicano e tutti ricapiscono anche la loro lingua. Vediamo un pochettino. Se uno di voi sente qualcuno parlare in araco, capisce? Lo capite l'araco? No. Allora, immaginate se voi andassi a sentire una persona che parla in araco e capite quello che dice. A Ventecosto è successo questo. Gli apostoli sono usciti davvero a Ventecosto. L'hanno annunciato di un oggetto. Loro parlavano di aramaico. Se volete vi faccio sentire un po' come era aramaico. Faccio sentire un pochino come era ebraico. Qualche parola in ebraico non si capisce niente. Perché la conoscono? Non si capisce proprio niente. E le persone che ascoltavano, li capivano che la lingua è un pochino. Sto a via con lo spinto. Allora, secondo voi, come va che lo Spirito Santo è venuto facendo un botto, un rombo? Che cosa ci dice questa cosa? Sarà forte lo Spirito Santo, potente, quindi che è capace di cambiare dal profondo i nostri cuori? O no. Che dico voi? Quindi questo è il dragone. Il vento, lo conoscete il vento? Lo conoscete il vento? Sì. Che fa il vento quando viene il vento? Vediamo un po', le fanno studiare già queste cose a scuola. Soffia. Soffia. Che cosa fa il vento? Scaccia via. Spazza via tutto. Sapete che pulisce l'aria, no? Vanno già a studiare a scuola. Sapete che a Torino, a Mitano, ogni tanto i tassi di inquinamento, i fumi, i gas. Si scarico e studiare il trasporto, vanno a livelli preoccupanti, no? Cioè, tutte quante le cose brutte, puzza il fumo, no? Se andate vicino al tubo della scappola, ma già in una città dove sono stati milioni di macchine. Che succede? Che a un certo punto, gli indici di inquinamento vanno oltre un certo limite. E i sindaci bloccano il traffico, non fanno entrare tutte quante le macchine. Qual è la situazione? Quando è che si sblocca la situazione? Quando io ho una bella giornata, il vento. Perché il vento pulisce l'aria, porta via tutto. Quindi quando arriva lo Spirito Santo, ci fa una bella pulizia. Tira un po' d'aria nuova. Ci porta lontano le cose brutte della terra. Si stira anche i capelli. Che fa? Si stira anche i capelli. Si stira anche i capelli. Penso che lo Spirito Santo, quello lo fa il barbiero. Lo Spirito Santo si occupa di cose un po' più elevate. Con queste cose bastano bravi barbieri e barbottieri. Qua sono tutti bravissimi. Infine, ci porta il fuoco. Secondo voi, il fuoco? Ce l'avete a casa il cammino? No. Sì, no. Io ce l'ho, però si fanno dei botti. Ok. Fa caldo quando c'è il cammino acceso o fa freddo? No, fa caldo. Fa caldo. E che significa che lo Spirito è disceso attraverso la forma del fuoco? Che tipo di fuoco ci porta nel cuore, secondo voi? Fuoco simbolico, ovviamente, no? Che cosa simboleggia? Il fuoco che brucia, il fuoco che scappa, secondo voi? Cosa potrebbe simboleggiare? Il fuoco. Il fuoco. Mmm? Una cosa in particolare. Poi se è ancora piccolino, quando diventiamo grandi, ci si innamora. Quando uno è innamorato e sente l'amore, è come se sentisse il fuoco nel cuore. Allora, l'amore ci porta il fuoco perché cominciamo a voler tanto bene al Signore, ma anche a voler tanto bene ai nostri fratelli, genitori in primis, a cui dovete voler tanto bene. Ok? Questo fa una sintesi veramente vostra. Se mi date 5 minuti, i grandi prendano la vita e il foglietto, perché per camminare la vita e non bene questa festa, fratelli, camminate secondo lo spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito. Attenzione, la carne non è soltanto, adesso lo vedremo, non è soltanto la carne intesa come inizi carnali, la lussuria e la nulla. Perché San Paolo, quando l'elecco uno, dice, ci sono due spie. Come dicevo ai ragazzi, facendo degli esempi un pochino semplici, no? Tipo la parolaccia. Ecco, come faccio a capire se io e le persone che stanno vicino a me stanno vivendo secondo lo spirito o secondo la carne? Cioè, vivono in grazia di Dio e in amicizia di Dio, lontani da Dio. Cioè, San Paolo. Spara un elenco brutale proprio. Le opere della carne sono la fornicazione. I grandi capiscono che significa fornicazione, se non devo dirlo in un linguaggio un po' in codice perché stanno un pochino di innocenti, perché è una cosa che attiene di una certa sfera. Voi capite? Uso un linguaggio un pochino raffinato, così lo capiscono tanto i grandi. Se avete il vocabolario, fornicazione, con termini che si trovano anche nel catenismo della Chiesa Cattolica, nella sezione del Sesto Comandamento, significa, capite eh, non dovrebbero capire piccoli con questo, congiunzione carnale al di fuori del matrimonio. Chiaro per tutti i grandi? Capite che significa, no? C'è un termine un pochino... Ecco, la prima. Impunità, si capisce già meglio. La discutezza, la vita dissoluta, ricordate il figlio in prodigo che sperpera di averi, ecco, a fagori, rostitute, eccetera, eccetera. Poi, l'idolatria, il culto agli idoli, non soltanto agli idoli, ma anche agli idoli che vi chiamassi a giro. Il catenismo d'occhi mi chiamava, i 3S, Sesso, Soldi e Successo. Oppure le 3P, Piacere, Potere e Possedere, la stessa cosa. Sono tutti prostrati, guardate che oggi in questo mondo sono tutti quanti in ginocchio davanti a questi idoli. Poi, le stregolerie, le cose, pensate alle streghe, delle favole, le stregolerie sono i culti occulti, perdonatemi la cacofonia, al nemico della romana salvezza. Voi sapete che sono molto diffuse queste cose, anche in Italia. Un italiano su tre va a consultare ogni anno, sono 20 milioni di italiani, non pochi, gli operatori dell'oculto per fare del male al prossimo. Sono dati ufficiali, questi qui, eh? Inemicizie, 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 persone che non si parlano, persone che non si vogliono. Nei piccoli centri, nei piccoli paesi, purtroppo, a volte queste cose sono diffuse, pensiamo anche, c'è qualcuno con cui non parlo, c'è qualcuno con cui ce l'ho, o che ce l'ha con me, discondia. Quando, ieri sera, nella lista prevestiva, c'era la pelle, la pelle è proprio l'immagine della vita contro Dio, non ci si capisce più tra gli uomini, si è in disaccordo gli uni con gli altri, caos, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, partiti che si riscaldano contro, la penso bene, la penso bene a lui, inviglie, ubriatezze, l'alcolismo. Il problema è anche questo, ovviamente è abbastanza diffuso, anche nei piccoli centri. voi che ci abitate, qui sapete, se qualche fratello, qualche sorella, sta purtroppo implicato in questa brutta schiavitù, in questa brutta dipendenza, orge, i grandi non hanno potuto capire questa cosa, cose del genere. Quindi questa è una sintesi, non esaustiva, ma esemplificativa. Quindi queste sono alcune delle cose che attestano che la persona, anche se potrebbe non essere consapevole, non vive in comunione con Dio. E San Paolo l'incara, usando un termine soft, dice, attenzione che cerca queste cose, di ben avviso, come ho già detto, chi le coppie, non erediterà il regno di Dio. Che significa questa espressione, secondo noi grandi, non ereditare il regno di Dio. In termini rosaici, se Paolo a San Paolo che si continua ad essere un po' brutale, ha detto, chi le coppie, la sarà va dritto o dritta all'inferno, Padre Pio l'avrebbe detto così, che era un pochino più diretto. Questo significa però. Ora, quanti fedeli oggi sono perfettamente consapevoli di queste cose? Dobbiamo chiedercelo, no? E dopo tutta questa ammottizia, così concludiamo, dice, e chi vive in amicizia con Dio, come vive? A respirare un po'. Amore, a Dio e al prossimo. la gioia, se una persona sta in la gioia, io lo leggo in faccia, basta collovarli in faccia e ce farvi cinque minuti. La pace, la pace profonda, che dipende dal fatto che si sta in pace con tutti, ma soprattutto dal fatto che si sta in pace con Dio e con la mia coscienza. Guardate che le persone che vivono contane da Dio e che cercano di intottirsi, quando vanno a dormire non stanno tranquille. Neanche i super uomini di successo e di spettacolo che sembrano che siano le persone più felici del mondo non vi fate ingannare dalle apparenze. La pace del cuore non ce l'ha nulla, lo dico io, ho avuto modo di vedere in tutte le varie situazioni, i dati. Poi, magnanimità, un cuore grande, un cuore generoso, benevolenza, al prossimo si vuole bene, non si vuole male, non si ammalegno, non si giudica. Bontà, una grande bontà. Fedeltà, la vitezza, la dolcezza, la pagatezza, la pagatezza, e il dominio di sé, la capacità di controllarsi. Pensate all'uso dei social network, dove si vomita qualunque cosa che a uno ne passa per la testa. Dov'è il dominio di sé? Sapete un proverbio confluto, no? Che me lo disse un mio caro padre spirituale. Ah, no, io devo dire quello che penso. quindi sparo e il proverbio dice lo stupido dice quello che pensa, il saggio pensa quello che dice. Quello che dice secondo lo spirito saggio, capite? Ma io dico quello che penso, quindi questo è vero, quindi lo dico. Ma sei sicuro che sia una cosa buona dirla? È per dire tutto quello che pensiamo a chiunque. Poi pensate se tutto che pensiamo andasse come dire che il nostro signore non ce lo proteggesse e non lo sappiamo contatto. Pensiamo se tutti quanti sapessero quello che pensiamo. Staremo tranquilli. Penso adesso sto a parlare e vedi situazione di qualcuno che non è vostro eh, in un'altra parrocchia e dice oh, magari una pianta o un altro che mi sono stupato non sarebbe bello vedere questo pensiero. Capite? Ecco la grande differenza. Allora noi con queste parole vogliamo confrontarci perché è molto diverso vivere in amicizia con Dio che non in amicizia con Dio. Per vivere ci vuole lo Spirito Santo come dicevo ieri per averci lo Spirito Santo ci vuole i sacramenti e la preghiera. Questa è la Chiesa sempre insegnata era vero ieri era vero oggi era vero sempre. Buonamente posti a tutti e siano la di Gesù e Maria. Sempre sia la Dio.